Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Il dramma familiare esplode in diretta a C'è posta per te quando Valentina rivela di non aver parlato con suo padre per ben sei anni. Il motivo? Una vicenda assurda che ha sconvolto gli spettatori. Alessandro, il padre, si presenta disperato, confessando di essere stato invadente e geloso, cosa che ha allontanato la figlia. Il suo tentativo di riallacciare i rapporti, anche tramite l'aiuto del genero Marco, sembra infrangersi contro un muro. Valentina, decisa e ferma, non sembra disposta a cedere, nonostante le lacrime del padre. Una storia commovente che lascia riflettere sulla complessità dei legami familiari. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti qui sotto. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.